Passaggio di consegne questa mattina da Carlo Bava e ora la guida di una verbagna possibile per le prossime elezioni comunali c'è Renato Brignone. Come mai hai accettato questa sfida? Perché sono fantastico nel ruolo di parafulmini, nel senso che non sono alla guida, ma sono quello con le spalle più grosse. Attaccate il pezzo grosso per il programma o persone molto migliori di me. Un'esperienza di cinque anni all'opposizione. Avete esercitato un ruolo sempre molto attivo in questa amministrazione. Come proseguirà in caso di vittoria? Metteremo in atto le stesse cose che chiedevamo che questa maggioranza mettesse in atto. Noi gli abbiamo votato il programma e non abbiamo ricevuto risposte. Siamo stati propositivi e non abbiamo ricevuto feedback. Faremo la stessa cosa, ma le risposte che noi daremo saranno diverse. Avete già annunciato una composizione della giunta particolare? Sì, noi chiederemo sicuramente a quattro ex amministratori di Verbagna di tornare a fare gli amministratori con noi. Non posso fare i nomi, sono persone ovviamente del centro-sinistra, perché li metterei in difficoltà. Ma credo che sia una modalità estremamente interessante e i nomi li faremo se arriveremo al ballottaggio o meglio quando saremo in fase di ballottaggio. Ecco appunto, il vostro obiettivo è il ballottaggio al posto di Marchionini? Assolutamente sì, non ci sono alternative. Voi avete cercato anche il dialogo con altri gruppi e altre figure politiche? Sì, ci abbiamo provato e assolutamente non smetteremo di farlo, perché la nostra modalità sarà proprio quella di confrontarci con chiunque sempre e sempre aperti, ma nel merito, non col pregiudizio.